Il pensiero contemporaneo, relativo alla conoscenza dei disordini di natura neuropsichiatrica infantile, ha tratto fondamentale insegnamento dai nuovi concetti di base che sono stati definiti grazie alla ricerca in neuroscienze. Ha così potuto dar forma, secondo evidenze scientifiche, ad una nuova e importante categoria diagnostica, costruita e condivisa a livello internazionale, quella dei disturbi del neurosviluppo. In questo brevissimo video vi illustrerò come l'approccio alle condizioni di salute in età evolutiva sia, dagli inizi degli anni 2000, radicalmente cambiato, determinando una sorta di rivoluzione copernicana nella comprensione e nella cura di tali patologie. I progressi della ricerca nell'ambito delle neuroscienze hanno reso possibile la costruzione di quelle nuove e numerose affermazioni scientifiche, basate sulle evidenze, che hanno fatto chiarezza su un'ampia serie di sintomi in neurosiciatrie infantili, spesso sintomi spesso apparentemente distanti tra di loro, sino a organizzare e definire appunto questa nuova area, la cui domanda di cura è divenuta nel tempo prevalente e pressante, tanto da impossessarsi quasi totalmente dell'attività dei servizi. Al suo interno si trovano la maggior parte di quei profili dinamico-funzionali che sono di particolare interesse per il mondo della scuola, disabilità e bisogni educativi speciali. Dunque, la prospettiva del neurosviluppo, ben radicata nei più recenti manuali diagnostici, definisce in quali percorsi quasi obbligati di natura biologica si costituiscano le caratteristiche del bambino che cresce, ne vengono limitate la dimensione della soggettività e dei risultati della sua interazione con l'ambiente. Occorre una visione olistica. Si è così evidenziato che la storia di vita di ogni singolo soggetto è radicata dinamicamente e con elevati gradi di complessità in uno specifico e relativamente stabile profilo neurobiologico di base. Infatti, durante la crescita del bambino sino alla sua maggiore età, si assiste al processo della maturazione sia anatomica che funzionale del suo sistema nervoso centrale e conseguentemente delle funzioni motorie, sensoriali, cognitive, affettive e sociali. Concludendo, l'espansione dell'approccio delle neuroscienze e disturbi del neurosviluppo ha fatto chiarezza su tutta un'ampia serie di condizioni di salute in neuropsichiatria infantile, favorendone la comprensione e il trattamento. Gli assetti di tipo genetico o troppo semplicitamente costituzionali dei singoli individui sono modulati e interagiscono con svariati fattori ambientali, compreso il mondo della scuola. Tutto ciò rende ancora più importanti e centrali tutte quelle azioni che possono aiutare un bambino ragazzo nella sua crescita e nel caso specifico del corso a evitare che una dimensione di disabilità cognitiva e o di iperdotazione possono divenire fonte di inutili sofferenze e una barriera alla sua crescita. Questi e molti altri suggerimenti nel corso dalla disabilità intellettiva agli alunni iperdotati, le teorie del neurosviluppo per riconoscere e sostenere gli studenti.